27 agosto 1979, il cantautore Fabrizio De Andrè e sua moglie Dori Ghezzi vengono rapiti dall'anonima sequestri Sarda. Rimangono nelle mani dei rapitori per quasi quattro mesi. Dori Ghezzi viene liberata il 21 dicembre, De Andrè il 22. Il padre di Fabrizio paga gran parte del riscatto. La parola da chiarire è questa, che noi siamo due cantanti a cui è successo di essere sequestrati. E noi viceversa. Ecco, non siamo due sequestrati che improvvisamente si mettono a cantare. Questo vorrei che fosse chiaro.